Ok amici, eccoci qua, passato un giorno dalla realizzazione della Total GLM e della Total Krillbait siamo qui con i nostri cubi dai quali ricavare adesso, dai nostri blocchetti, dai quali ricavare i cubi e lo sbriciolato con il tritacarne parliamo di una strategia di pesca con proprio un atteggiamento da cacciatori quindi abbiamo fatto un paio di esche che sono da innesco curate nel dettaglio per essere attrattive, stimolanti, senza però stimoli chimici e quindi andremo a ricavare dei piccoli cubetti e dello sbriciolato che servirà per accompagnare l'innesco con un sacchettino di pivua prepariamo prima il GLM eccoci qua, con il coltello tagliamo delle fette di spessore inferiore al centimetro possiamo apprezzare la bella grana finita del cubo e poi taglieremo a metà e quindi tutti i piccoli cubettini avanti con il processo pezzatura molto piccola come vi dicevo stiamo parlando di 5 mm per lato circa ed ecco quindi pronti i nostri cubetti da retina di pivua per chi predilige la strategia della bombetta partendo dagli stessi cubetti possiamo realizzare con il tritacarne dei micro pellet ok, da poter inserire nel sacchetto chiuso di pivua con la strategia della bombetta io non uso questa strategia e quindi interrompo qui la produzione del micro pellet era per farvi avere un'idea anche di questo tipo di presentazione che per inciso nelle acque invernali molto fredde può avere una resa decisamente superiore proseguiamo con le krill lever anche per la krill lever procediamo al taglio prima in verticale e apprezziamo la grana del costrutto e poi taglieremo per lungo ancora i cubetti ed eccoci pronti anche con i cubetti di krill per applicare la nostra strategia da cacciatori ed eccoci pronti con il nostro terminale a cui andremo ad aggiungere il sacchettino di pivua il consiglio è sempre quello di agganciare la punta del lamo e poi fare un giro attorno in modo che la boili venga mantenuta ferma in questa posizione quindi faccio questo primo passaggio e poi giro dietro e riaggancio la punta del lamo che così viene proprio bloccato e non può andare a incagliarsi se lancio in presenza di ostacoli o penso ci siano alghe posso andare a riprendere anche la rete in questo punto in modo che il sacchettino riesca a bucare l'ostacolo e quindi non impedire alla punta del lamo di essere libera per fare il suo dovere eccoci qua quindi con il nostro primo terminale pronto total GLM e i cubi total GLM inneschiamo anche un'esca krill stesso processo anche per l'esca krill vado a proteggere il terminale avvolgendolo con la rete di pivua in eccedenza e anche qui abbiamo creato un'efficace terminale da caccia grossa alcune riflessioni finali per ricapitolare abbiamo creato due varianti di esche da innesco molto tecniche senza aromatizzazione di sintesi tutta a trazione naturale partendo dallo stesso base mix composto esclusivamente di pastoncini tecnici e proteine del siro del latte a cui abbiamo aggiunto quegli additivi e ingredienti che mancavano per creare una total GLM e un total krill liver mix abbiamo rullato con liquidi fortemente attrattivi tutti di origine naturale per ottenere un'esca iperidratata sia in un caso che nell'altro perché lo scopo è usare pokeboily cercare il target trovare il posizionamento ideale studiando il lago il fiume, il canale cercando di capire le abitudini alimentari dei pesci più grossi e offrendo loro un vantaggio in termini attrattivi se si cibano principalmente di molluschi e un vantaggio in termini attrattivi se si cibano prevalentemente di crostacei ma cosa succede in quelle acque dove c'è opportunità di alimentarsi di entrambe le fonti che abbiamo citato sfruttando l'input ricevuto via facebook da uno dei pionieri del carfishing in Italia e non solo quel Max Greco che furoreggiava a inizio anni 90 in compagnia di un altro bricconcello di nome Massimo Mantovani ecco che nulla vieta un innesco combinato che vada quindi a sfruttare le peculiarità di entrambi i tipi di attrazione e stimolo e nulla vieta che si vada a inserire un sacchettino che contenga il mix dei due cubi da pastura che abbiamo ricavato è una strategia anche questa se mi serve un doppio innesco per ovviare magari a piccoli disturbi o selezionare la taglia questa può essere la strategia vincente concludo con un cenno sul colore delle esche naturale derivante esclusivamente dagli ingredienti utilizzati e se ci pensate anche molto mimetico nei confronti del fondale ma come ribadivo anche in un intervento su facebook questa cosa è quasi voluta a parte che sarebbe impossibile colorare un mix di questo genere ma mi interessa che la carpa veda fra virgolette l'innesco solo a livello sensoriale non visivo non deve capire che è una boili non deve distinguere nella forma e quindi se è mimetico sono sicuro che il pesce utilizzerà altri organi di senso che sono quelli più interessati dagli ingredienti attivi che abbiamo inserito per chiudere il discorso queste esche così spinte studiate costruite e perché no anche di buon budget in termini di costo vanno messe in congelatore sia i cubi lo sbriciolato che le boili vanno congelate il giorno dopo averle fatte perché solo così si conserva a pieno tutta la fragranza e l'idratazione senza perdere qualità organolettiche e senza andare a mascherare comunque con dei segnali chimici come quelli dei conservanti che in ogni caso alcune carpe molto smalizziate potrebbero aver già imparato a riconoscere come potenziale veicolo di rischio niente mi sono divertito a fare questo progetto di esche da innesco e credo che ci sarà un seguito ho ancora tante idee in testa per lavorare su questo tipo di diciamo palline da caccia sulle quali non ho mai avuto modo di lavorare tantissimo perché vengo da un'era quella della pasturazione preventiva dove le componenti nutrizionali erano certamente molto importanti e sto traslando verso la vostra esigenza che risulta che risulta sempre più una richiesta di esche da caccia per andare a stanare le carpe e stimolare il loro appetito ai fini della cattura e quindi ci rivedremo presto su questo canale se il video vi è piaciuto vi invito a condividerlo vi invito a iscrivervi al canale youtube e passate parola se mi aiutate a far crescere il canale per me diventa sempre più piacevole fare anche questo tipo di lavori a presto